Eugénie si trovava sui trent'anni senza che della vita avesse gustato ancora una dolcezza. Fin dall'infanzia i suoi giorni erano scorsi, tristi e scialbi a fianco della madre, sofferente per il continuo dispregio e la costante umiliazione. Il primo e unico amore non le aveva dato che profonda malinconia. Fra due baci furtivi il suo cuore si era concesso per sempre spontaneamente al giovane che era partito presto per terre lontanissime, e quell'affetto maledetto dal padre quasi causa della morte di sua madre anche a lei costava solo dolori e speranze. Così inseguiva i sogni di felicità lasciando le forze per via senza rinnovarle, mentre nell'esistenza morale come nella fisica occorrono aspirazione e respirazione e l'anima ha bisogno di assorbire i sentimenti di un'altra anima per assimilarli e trasfonderli più rigogliosi. Perciò la fanciulla soffriva e la ricchezza non poteva recarle conforto, ella viveva soltanto per l'amore, per la religione, per la fede nell'avvenire. L'idea dell'eternità le si svelava nell'amore e il cuore ed il Vangelo le indicavano due mondi ignoti da scoprire. Assorta continuamente in quei gravi pensieri infiniti si passeva nell'intimo della illusione di amare ed essere amata ed in sette anni la passione che l'aveva invasa e la dominava. Non consistevano nei milioni e nelle rendite annue i suoi tesori, ma nel cofanetto di Charles, nei due ritratti appesi al capezzale del letto, nei gioielli riscattati da suo padre e accuratamente disposti sullo vatta entro il cassettone, nel ditale della zia che sua madre aveva usato e che con religiosa reverenza prendeva ogni giorno per lavorare ad un ricamo, nuova tela di Penelope incominciata soltanto allo scopo di vedersi in dito quel cerchietto d'oro così pieno di ricordi. Poiché si conosceva la schietta affezione della signorina Grandè non era verosimile che la potesse passare a nozze prima di deporre il lutto e quindi la famiglia Crusciò, seguendo l'alta diplomazia del vecchio abate, prese a blandirla con ogni sorta di amorose cure. Accorrevano ogni sera in casa i più ferventi e devoti crusciottiani sforzandosi di ripetere in tutti i toni le lodi della giovane. In quella compagnia erano il medico ordinario di camera, il grande lemosiniere, il ciambellano, la prima dama, il primo ministro e persino un cancelliere. Se avesse desiderato un porta-coda immediatamente qualcuno si sarebbe offerto. E benché da principio Eugénie si facesse di fuoco al coro di lodi che le si rivolgeva, pure a poco a poco trovò così piacevole sentir vantare la propria bellezza che una voce discorde l'avrebbe certo ferita e finì con l'adattarsi ben volentieri ad essere considerata come sovrana e da vedersi ogni sera circondata dalla sua corte. L'eroe del ristretto circolo era sempre il presidente de Bonfant, di cui si vantavano senza posa lo spirito, l'aspetto, la dottrina e la genialità. Veran di quelli che richiamavano l'attenzione sui beni di lui, molto accresciuti in sette anni, dicendo che Bonfant rendeva almeno dieci mila lire e si trovava incuneato come quasi tutte le terre dei Crusciot nei vasti domini della giovane erede. Sapete, signorina, aggiungeva un altro, che i Crusciot mettono insieme quaranta mila lire di rendita? E poi hanno denaro da parte, osservava una vecchia Crusciottiana, la signora Gribocourt. Ultimamente da Parigi hanno offerto al notaio duecentomila franchi del suo studio, ed egli lo venderà se lo nominano giudice di pace. Si avvia a succedere al signor de Bonfant nella presidenza del tribunale, rispondeva la signora d'Orsonval, già che sarà fatto in breve consigliere e quindi presidente della corte. Non gli manca nulla per far carriera. Sì, è un uomo distinto assai, diceva un quarto. Non vi sembra, signorina? Per parte sua il presidente si sforzava di rappresentare bene la sua figura e quantunque è già sui quarant'anni, e col viso bruno, burbero e floscio come d'ordinario sono quelli dei magistrati. Assumeva arie da giovanotto, scherzava con una sottile canna d'India, non prendeva tabacco dinnanzi alla signorina di Froffon, e veniva sempre in cravatta bianca, e sparato a grosse pieghe, che lo facevano rassomigliare molto ad un tacchino. Parlava in tono familiare alla belle rede, chiamandola la nostra cara Eugénie. In fondo la scena attuale, tolte le figure di grande e della moglie e sostituito il whist alla tombola, non differiva da quella con cui si apre il racconto. Era sempre la stessa muta famelica che inseguiva i milioni di Eugénie, ma adesso si era fatta più numerosa, abbaiava meglio e circuiva con corde la preda. Se in quel punto fosse tornato Charles dalle Indie, avrebbe visto le stesse persone ed il medesimo gioco di interessi, non escluse le mene della Degrassè, che adulando Eugénie cercava ogni mezzo di indispettire i Cruchot. Ma, come già una volta, il giovane parigino sarebbe subito divenuto il sovrano. Si notava però un progresso, ed era questo che, invece del mazzo di fiori annuale, il presidente ne portava ora uno ogni sera. Magnifico che madame Cornoyer metteva lì per lì in mostra in un vaso e gettava poi senz'altro nel cortile appena quella gente era andata via. Sul principio della primavera la signora Degrassè intentò di turbare la letizia dei Cruchotiani parlando alla ragazza di un matrimonio col marchese di Foiffon, un nobile spiantato che avrebbe voluto restaurare il blasone con l'oro di lei, e magnificò a lungo la dignità di pari e il titolo di marchesa. Ella ebbe un lieve sorriso disprezzo, ma la moglie del banchiere lo prese per tacita approvazione e sparse subito la voce che le nozze del presidente Cruchot correvano pericolo. È vero che il marchese di Foiffon a 50 anni continuava, ma non ne mostra più del signor Cruchot. È anche vedovo ed ha figli, però in compenso è marchese, presto sarà pari di Francia, e per i tempi che corrono non saprei dove pescare un matrimonio migliore. Certo poi che papà Grandet, nell'acquistare le terre di Foiffon, pensava già a questa parentela, e me lo ha detto lui spessissimo il buon uomo. Ma possibile, nanò, disse una sera Eugénie mentre si coricava, che in sette anni non mi abbia scritto neanche una volta. Charles intanto faceva fortuna alle Indie, poiché fin dal principio era riuscito a vendere bene la merce che recava seco ed a realizzare 6.000 dollari. Col passaggio dell'Equatore, inoltre, si spogliò di molti pregiudizi ed in breve si accorse che il miglior mezzo da arricchire rapidamente in quelle regioni era il traffico degli uomini. Si recò quindi sulle coste dell'Africa e si diede alla tratta dei negri ed al commercio delle cose di più facile scambio nei mercati che egli frequentava. Un'attività febbrile lo spingeva assorbendolo completamente e l'idea fissa lo dominava di ricomparire a Parigi con una posizione ancor più brillante di quella perduta. Trovandosi in continuo contatto con gente di ogni nazione e studiandone i diversi ed opposti costumi, i suoi principi si modificarono tanto che divenne scettico e perdette il senso preciso del giusto e dell'ingiusto nel veder considerato come delitto in un paese ciò che altrove si considerava virtù. Da quest'esame anatomico della vita il suo cuore uscì freddo, arido, ristretto e il sangue dei granderi, destandosi in lui, lo rese duro ed avido del guadagno. Vendette cinesi e negri, nidi di rondine, fanciulli ed artisti. Esercitò l'usura su vasta scala e l'abitudine di frodare i diritti di dogana lo fece essere meno scrupoloso anche verso quelli dell'uomo. Si recava spesso a Saint-Thomas per acquistarvi a basso prezzo le merci rubate dai pirati e le scaricava sulle piazze in cui venera bisogno e, se la nobile e pura fisionomia di Eugénie gli fu compagna nel primo viaggio, simile alla immagine della Madonna che i marinai spagnoli mettono sul ponte delle navi, tanto che egli attribuì alle preghiere ardente di lei l'ottima riuscita dei suoi tentativi. Più tardi, invece, le negre, le mulatte, le bianche, le giavanese, le almee, le orge e le avventure di ogni specie cancellarono affatto il ricordo della cugina di Saumur, della casa, del banco e del bacio rubato nel corridoio. Gli tornava solo in mente talvolta il giardinetto recinto di antiche mura, perché di là muovevano i primi passi del suo fortunoso destino, ma nessun legame lo avvinceva alla famiglia, suo zio era un vecchio cane che gli aveva truffato i gioielli. Eugénie non occupava né il suo cuore né i suoi pensieri. Ella occupava un posto nei suoi affari come creditrice di una somma di 6.000 franchi. Questa condotta e quelle idee spiegano il silenzio di Charles Grandet. Nelle India, a Saint-Thomas, sulla costa africana, a Lisbona, negli Stati Uniti, lo speculatore si faceva chiamare Carl Sefford, e sotto quel nome girava infaticabile, audace, avido e risoluto di arricchire quibus cumque vis, come colui che abbia fretta di finirla con l'infamia per vivere onestamente il resto dei suoi giorni. In tal modo la fortuna fu rapida e notevole, e nel 1827, dalla Marie Caroline, egli scendeva a Bordeaux con 1.900.000 franchi in polvere d'oro, entro tre barili ben cerchiati, e col disegno di trarne almeno un guadagno del 7% o 8% realizzandolo a Parigi. Su quella nave finiva il suo viaggio un gentiluomo ordinario di sua maestà Carlo X, il signor Dobrion, buon vecchierello che aveva commesso la pazzia di sposare una donna elegante del Messico ed era costretto a tornare in patria per vendere i suoi beni affin di porre rimedio alla prodigalità della signora. I coniugi Dobrion della famiglia Dobrion de Vuche, il cui ultimo feudatario era morto prima del 1789, non avevano oggi più di 20.000 lire di rendita e una figliuola abbastanza brutta che la madre cercava di maritare senza dote. Nonostante le arti più sottili, l'impresa non era certo facile, anche di fronte ad un uomo assetato di nobilume, poiché la signorina Dobrion era lunga lunga, magra, sparuta, con la bocca dall'espressione sdegnosa ed un naso sproporzionato, grosso in punta, giallastro ordinariamente, ma sempre rosso dopo il pranzo e spiccante in modo repulsivo nella pallidezza scialba del viso. In compenso però la Marchesa aveva curato che la mantenesse sempre un'aria assai distinta, l'aveva sottoposta a un regime speciale per impedire l'arrossimento del naso, le aveva insegnato l'arte di abbigliarsi con gusto, di essere graziosa nelle maniere, di lanciare quegli sguardi malinconici che interessano un uomo, facendogli credere di trovarsi innanzi l'angelo sospirato. L'aveva istruita specialmente nella manovra del piede, che, mostrato con astuzia nel momento in cui il naso si imporporava, poteva servire a distrarre l'attenzione con la sua piccolezza ammirabile. Mediante poi le maniche larghe, i busti imbottiti, le vesti a rigonfi con belle guarnizioni e la rigida pressione della vita, era giunta ad ottenere un curioso prodotto femminile che avrebbe dovuto esporre in un museo per istruzione delle madri. Charles trinse subito una grande intimità con la signora Dobrion, che non chiedeva di meglio, e dicono i manigni che anche durante la traversata egli non lasciasse da parte alcun mezzo per accapararsi un genero così ricco. Infatti a Bordeaux scesero tutti nello stesso albergo ed insieme partirono per Parigi. Il palazzo Dobrion gemeva sotto il peso di enormi ipoteche, da cui grande l'avrebbe liberato, e già l'astuta madre parlava dell'accessione che volentieri avrebbe fatto del pian terreno agli sposi. Aveva inoltre permesso al giovane di ottenere dal buon re Carlo X un decreto che l'autorizzasse ad assumere il nome e lo stemma della sua nuova famiglia, e da succedere mediante costituzione di un maggiorasco di 36.000 lire di rendita nel titolo di feudatario di Buche e Marchese Dobrion. Mettendo insieme i nostri beni, facendo vita comune con l'aiuto di qualche carica lucrosa, potremo riunire cento e più mila franchi di rendita all'anno, gli diceva, e con tal somma quando si ha un nome ed un casato e si è ricevuti a corte, perché vi farò nominare gentiluomo di camera, si diviene quel che si vuole, e avrete da scegliere a vostro bellaggio fra le cariche di relatore al Consiglio di Stato, prefetto, segretario d'ambasciata o ambasciatore, poiché Carlo X vuol molto bene a Dobrion, che conosce da franciullo. Inebriato dall'ambizione, Charles accarezzò in viaggio tutte quelle speranze presentategli da una mano abile e sotto forma di confidenze da cuore a cuore. Credendo che i debiti paterni li avesse nel frattempo regolati, lo zio si vedeva già nel Faubourg Saint-Germain, cui tutti allora aspiravano, e dove, all'ombra del naso azzurro della signorina Matilde, sarebbe apparso anche lui sotto le spoglie di Conte Dobrion, come un giorno drue sotto quelle di Breset. Lo abbagliava l'improvviso rigoglio della restaurazione, in principio traballante, e il risveglio generale delle idee aristocratiche lo indusse senz'altro a mettere in pratica ogni mezzo per procurarsi l'alta posizione cui accennava la futura suocera. Sua cugina quindi non fu per lui che un punto nella vastità di quel fulgido orizzonte. Rivede poi Annette, la quale tutta lieta che gli sposasse una donna brutta e noiosa, maggiormente lo incoraggiò nel suo proposito, e a Charles allora parve di respirare meglio nella capitale e di essere destinato senza dubbio a sostenervi una parte importante. Saputo del suo ritorno, della ricchezza acquistata e del prossimo matrimonio, de Grasse si recò a visitarlo per dirgli del pagamento dei 300.000 franchi concordato con i creditori del padre, ma trovò il giovane in conferenza col gioielliere che gli mostrava i disegni per il regalo di nozze alla signorina Dobrion e quelli dell'argenteria ed altri oggetti per la nuova famiglia, il tutto ad un valore di oltre 200.000 lire, senza contare gli splendidi diamanti che Grandet aveva portato dalle Indie. Questi non riconobbe il banchiere e lo ricevette con l'impertinente sussiego di chi fa la gran vita ed ha ucciso quattro persone in duello. Poi, dopo averlo ascoltato, distrettamente gli rispose, freddo, freddo. Non ho nulla a che vedere con gli affari di mio padre e vi son grato dei fastidi che vi siete preso, quantunque non mi riguardino né mi giovino. Non ho raccolto col sudore della fronte circa due milioni per offrirli ai creditori di cui mi parlate. E se fra qualche giorno si dichiara il fallimento? Fra qualche giorno, signore, mi chiamerò il conte Dobrion e capirete che ciò poco mi importa. D'altra parte, a chi dispone di centomila lire di rendita non si dirà mai da alcuno che suo padre è fallito. E lo accompagnò garbatamente alla porta. Ai primi giorni di agosto di quell'anno, Eugénie sedeva sul piccolo banco di legno dove era stato scambiato il primo giuramento di eterno affetto fra lei e il cugino, e dove nei giorni sereni faceva sempre colazione. Nel fresco e lieto mattino, ella rievocava i mille ricordi del suo amore e le disgrazie che l'avevano seguito. La piena luce del sole cadeva sul muro tutto screpolato e quasi in rovina, che ella aveva ordinato di rispettare, sebbene il guardiano ripetesse di continuo alla moglie che un giorno o l'altro sarebbe rovinato. In quel momento il fattorino postale picchiò e consegnò una lettera a Madame Cornaillet che corse in giardino gridando «Una lettera, signorina, una lettera, è quella che aspetta!» Le parole echeggiarono ad un tempo fra le auguste mura del cortile e nel cuore di Eugénie. «Parigi, è lui, è tornato!» Poi si fece pallida e tenne per qualche minuto la lettera senza aver la forza di aprirla, mentre la grossa Nanon le stava ritta dinanzi, con le mani sui fianchi ed un'aria di giubilo spirante da tutte le rughe del viso bruno. «Ma leggete, signorina!» «Ah, Nanon, com'è che torna a Parigi mentre è partito da Saumur? Leggete i nomi di Dio, se vi importa di sapere!» Ella aprì il foglio con mano tremante e ne cadde una tratta sulla casa Madame de Grassin e Corrè che la domestica raccolse. «Mia cara cugina!» «Non mi chiama più Eugénie!» pensò la poverina con una stretta al cuore. «Sono sicuro che vi sarà grato!» «Eppure mi dava del tu!» disse incrociando le braccia, timorosa di leggere oltre con gli occhi pieni di lacrime. «È morto?» chiese Nanon. «Non avrebbe potuto scrivere!» E lesse tutta la lettera. «Mia cara cugina!» «Sono sicuro che vi sarà grato di conoscere il buon esito delle mie imprese e tengo a dichiararvi che mi avete portato fortuna. Ho seguito i consigli dello zio, la cui morte è quella della zia, ho appreso da De Grassin ed eccomi ricco di nuovo. La morte dei genitori è cosa naturale ed è naturale che noi succediamo loro perché so per prova come nulla al tempo resiste. Sì, mia cara cugina, sventuratamente per me è passato il tempo delle illusioni. Che volete? Viaggiando per vari paesi ho molto riflettuto sulla vita e da fanciullo che ero nel partire sono diventato uomo al ritorno. Oggi penso a tante cose cui prima non pensavo. Voi cugina siete libera ed io pure e nulla parrebbe impedire che si realizzassero i nostri piccoli disegni ma la lealtà mi impone di esporvi lo stato preciso delle cose mie. Non ho dimenticato i miei impegni e nelle lunghe pregrinazioni ho sempre avuto in mente il piccolo banco di legno. Egenie fu in piedi di scatto come se si fosse trovata sopra carboni accesi e andò a sedere su un gradino del cortile il piccolo banco di legno dove ci siamo giurati amore eterno il corridoio la sala grigia la mia camera in soffitta e la notte in cui mi facilitaste l'avvenire con la delicata vostra offerta. Sì, in questi ricordi ho attinto spesso il coraggio ripetendomi che nell'ora convenuta il vostro pensiero a me si rivolgeva come il mio a voi. Vi è mai capitato di contemplare le nuvole alle nove? Sì, è vero. Non voglio perciò tradire un'amicizia sacra e tantomeno ingannarvi si tratta ora per me di un legame che soddisfa tutte le idee che mi son formato sul matrimonio e faccio astrazione dall'amore che nel matrimonio è una chimera. Ho imparato per esperienza che bisogna piegarsi alle leggi sociali e riunire nel prendere moglie e tutte le possibili convenienze. Ora esiste già fra noi una differenza di età che forse avrebbe maggior peso sull'avvenire vostro che sul mio e tralascio di accennare alla educazione e alle abitudini vostre che non si confanno con la vita che si conduce a Parigi né con i miei disegni ulteriori. Ho intenzione di mettere su casa in grande e ricevere molta gente mentre se mal non ricordo a voi piace una dolce tranquillità. Del resto sarò franco scegliendovi arbitra della mia posizione dandovi pieno diritto a conoscerla e giudicarla. Possiedo oggi 80.000 franchi di rendita e ciò mi permette di contrarre matrimonio con l'erede della famiglia Dobrion una giovane di 19 anni che mi porta in dote il nome, il titolo il posto di gentiluomo di camera onorato di sua maestà e un grado sociale assai elevato. Vi confesso, cugina mia che non nutro il menomo affetto per la signorina Dobrion ma sposandola io assicuro ai miei figli una posizione sociale i cui vantaggi saranno un giorno immensi. Le idee monarchiche si ridestano su larga base e fra pochi anni mio figlio Marchese Dobrion con un maggiorasco di 40.000 lire di rendita potrà aspirare alle più alte cariche dello Stato. È nostro dovere sacrificarci per i figli vedete cugina come io vi espongo tutto con la massima schiettezza può darsi d'altra parte che voi abbiate dimenticato certe fanciullaggini dopo sette anni di lontananza ma a me rimangono vive in mente la bontà vostra e le mie promesse ricordo ogni cosa perfino le date più insignificanti a cui un altro meno onesto e scrupoloso non penserebbe affatto dicendovi che contraggo un matrimonio di interesse senza dimenticare l'amore giovanile non vi metto forse a vostra discrezione non è che rendendovi padrona della mia sorte e dichiararvi che se desiderate la mia rinunzia a qualsiasi ambizione sociale saprò anche contentarmi della felicità semplice e pura di cui mi deste prove si commoventi tantata tantati tantatat tantatat tantati tinta eccetera eccetera aveva canticchiato charles sull'aria di non più andrai nel porre la firma obbligatissimo cugino charles ed aveva soggiunto nel cercare la tratta per bacco questo si chiama agire in piena regola post scriptum unisco una tratta all'ordine vostro sulla casa de grassin per 8000 lire pagabili in oro cioè capitale ed interessi del prestito che gentilmente mi faceste ed in segno della mia perpetua riconoscenza mi permetterò di offrirvi alcuni oggetti non appena mi giungerà da bordo la cassa che li contiene se non vi dispiace potrete intanto mandare al palazzo d'Obrion via El Réin Bertin il mio nécessaire a mezzo della diligenza a mezzo della diligenza esclamò Eugény un oggetto per cui avrei sacrificata mille volte la vita il disastro era spaventevole e completo il vascello affondava e sul vasto oceano delle speranze non rimaneva né gomena né una tavola vi son delle donne che non tollerano l'abbandono e che pur di strappare l'amante dalla rivale lo uccidono e fuggono in capo al mondo sul patibolo o nella tomba vinte da un impeto sublime di passione superiore ad ogni giustizia umana ma ve ne sono altre che piegano il capo e soffrono in silenzio e se vanno morenti e rassegnate pregando e perdonando pregando e ricordando fino all'ultimo respiro ed è questo l'amor vero l'amore degli angeli l'amor dignitoso che vive della propria angoscia e ne muore dopo aver letto quella lettera terribile Eugény guardò in alto e le tornarono in mente le parole estreme della madre la soave creatura che sull'orlo del sepolcro aveva avuto la lucida visione dell'esistenza fu un istante che le svelò il suo destino spiegarle ali tendere al cielo e vivere nella preghiera fino al giorno della liberazione aveva ragione la mamma esclamò piangendo soffrire e morire lentamente dal giardino rientrò in sala senza passare per il corridoio come era solita perché i ricordi del cugino apparivano più freschi e vivi in quell'antico stanzone grigio ove sul caminetto erano sempre una sottocoppa e una zuccheriera di vecchio sevro di cui ella si serviva ogni mattina a colazione con religiosa costanza la domestica annunziò in quel punto il curato della parrocchia che era parente dei cruchot e tenero quindi per i loro interessi e che per incarico dell'abate cercava da qualche tempo sotto la veste puramente religiosa di richiamare l'attenzione della signorina grandè sull'obbligo per lei di contrarre matrimonio vedendolo Eugenie credette che venisse per i mille franchi che la dava mensilmente per i poveri e disse a Nanon di andarli a prendere ma il sacerdote sorrise Oggi signorina vengo a parlarvi di una povera ragazza che desta l'interesse di tutta sua mura e che non avendo carità per sé medesima non vive cristianamente Dio mio signor curato giungete in un momento in cui mi è impossibile addirittura pensare al prossimo la disgrazia mi colpisce e non vedo altro rifugio fuori dalla chiesa il cui seno è grande abbastanza per contenere tutti i nostri affanni benissimo signorina nel parlare di quella ragazza parleremo anche di voi sentite se vi sta a cuore la salvezza eterna due strade ormai vi sono aperte o lasciare il mondo o seguirne le leggi obbedire al vostro destino terrestre o a quello celeste o sì è il signore che vi manda nel punto opportuno e voglio ascoltarvi lascerò il mondo per vivere nel silenzio e nella solitudine ma questa figliola mia è una risoluzione gravissima che va a lungo meditata il matrimonio è vita il velo è morte sì sì la morte al più presto io cerco signor curato disse Eugenie con triste vivacità la morte ma dimenticate i vostri alti doveri verso la società signorina non siete forse la madre dei bisognosi che da voi hanno abiti e fuoco nell'inverno e lavoro nell'estate la vostra grande ricchezza è un prestito da rendere e voi l'avete santamente accettata così il seppellirvi fra le mura di un convento sarebbe vero e proprio egoismo né vi conviene restare nubile poiché non vi riuscirebbe di amministrare da sola l'immensa proprietà e presto o tardi andreste incontro a fastidi i non lievi date ascolto al confessore che vi parla come a una pecorella prediletta uno sposo è utile anche per conservare ciò che Dio va dato e troppo amore voi portate a lui per non provvedere alla salute dell'anima in mezzo ad un mondo in cui siete ornamento ed esempio fu annunziata in quel punto la signora de grassè signorina dissella entrando ah il signor curato dovevo parlare di certe faccende ma già che siete in colloquio vi lascio il campo libero signora disse il prete tornate presto però soggiunse genie ho più che mai bisogno dei vostri conforti sì povera ragazza esclamò la de grassè cosa intendete chiesero insieme la signorina grandè e il curato forse che non mi è noto il ritorno di vostro cugino e il suo matrimonio con la Dobrion le donne non portano poi l'anima in tasca e genie si fece rossa e stette muta un istante ma aveva già risolto di dissimulare in avvenire le proprie emozioni sotto un'aria di grave impassibilità come già usava suo padre con lieve tono d'ironia e la riprese credo di essere padrona del mio spirito signora e non vi capisco potete parlare benissimo innanzi al curato è il mio confessore guardate cosa mi scrive a de grassè e genie cominciò a leggere cara moglie charles grandè di ritorno dalle indie si trova a parigi da un mese da un mese esclamò la povera eugenie abbandonando la mano lungo il corpo indie continuò ho dovuto fare anticamera due volte prima che questo futuro visconte d'obrion mi ricevesse e quantunque tutta parigi parli del suo matrimonio e si siano già fatte le pubblicazioni dunque mi scriveva quando disse la giovane senza completare la frase con un'acre parola di disprezzo ma con accento tale che la lasciava intender chiaro credo che questo matrimonio non si farà poiché il marchese d'obrion non vorrà per genero il figlio di un fallito sono andato per dirgli quanto io e la felice memoria di grandea abbiamo operato allo scopo di tenere tranquilli fino ad oggi i creditori e quell'impertinente ha avuto la sfrontatezza di rispondere a me che per cinque anni mi son dedicato giorno e notte al suo onore e dagli interessi suoi che gli affari del padre non lo riguardano un avvocato avrebbe diritto di chiedergli 30 o 40 mila franchi di onorario in ragione dell'un per cento della somma dei debiti ma io prendo altra via e poiché sarebbe giusto dare ai creditori almeno un milione duecentomila lire così promuoverò subito la dichiarazione di fallimento mi impegnai in questo affare per servire quel vecchio coccodrillo di grande ed ho contratto degli obblighi che intendo rispettare perché se il signor visconte d'obrion non cura molto il proprio onore io tengo invece al mio son pronto perciò a mettere le carte in tavola tuttavia per rispetto alla signorina Eugénie la cui parentela desiderammo già in tempi migliori ho creduto bene pregarti di comunicarle grazie disse in quel punto Eugénie alla degracin rendendole freddamente la lettera vedremo orora potrei risolvere davvero ma se vi piace di conoscere cosa ne pensi il celebre sanscene la sua summa de matrimonio sarà a mia cura dirvelo domani quando il prete andò via la signorina grande si chiuse per tutto il giorno nello studio di suo padre e non volle nemmeno scendere a pranzo malgrado le premure di Nanò la sera quando la sala si empì dei soliti assidui ella comparve non mancava nessuno essendosi sparsa in un batter d'occhio la voce del ritorno di Charles e del suo sciocco tradimento ma la curiosità rimase insoddisfatta poiché neppur l'ombra delle dolorose emozioni che la travagliavano trasparì dal volto sereno di Eugénie con aspetto lieto si rivolse a coloro che si credevano in obbligo di dimostrarle il compatimento con sguardi e parole malinconiche e seppe celare la propria sventura sotto un velo di amabilità verso le nove finì il gioco tra le solite discussioni sui conti reciproci e sulle ultime combinazioni del UIST e mentre tutti si alzavano per congedarsi vi fu un improvviso colpo di scena che ebbe eco a Saumur nel dipartimento e nelle quattro prefetture vicine trattenetevi signor presidente disse Eugenia de Bonfant nel momento che gli prendeva il bastone una profonda commozione assalì il crocchio a quelle parole e il presidente divenuto pallido pallido fu costretto a sedersi i milioni sono per lui osservò la signorina di Gribokur la sposa non ve alcun dubbio escloma la signora d'Orsonval questo è il miglior punto della partita soggiunse l'abbate è un bello schlem fece il notaio ognuno volle dir la sua ognuno lanciò un motto e tutti si videro davanti la belle rede sul piedestallo dei suoi milioni dopo nove anni il dramma si volgeva alla catastrofe dire così in pubblico al presidente di trattenersi non indicava chiaro come ella volesse accettarlo per marito nessun altro motivo avrebbe potuto scusare quella infrazione alle convenienze rispettate con tanto rigore nelle cittaduzze di provincia signor presidente disse Eugénie commossa appena furono soli io conosco bene quel che vi piace in me ed io la consentirò a sposarvi se mi giurate di concedermi libertà assoluta per tutta la vita senza rammentarvi mai dei diritti che il matrimonio vi darà sulla mia persona oh riprese ella vedendoli in atto di inginocchiarsene davanti non ho detto tutto io non devo ingannarvi signore sappiate che un sentimento inestinguibile mi empie l'anima e che l'amicizia è il solo sentimento che posso offrire a mio marito la mia mano e le mie ricchezze poi saranno vostre a patto che mi rendiate un gran servizio son pronto a far quello che chiedete rispose de bonfond ella trasse dal seno un certificato di cento azioni della banca di francia e glielo porse eccovi un milione e mezzo partite immediatamente per parigi informatevi da de gracen del nome di tutti i creditori di mio zio pagate loro fino all'ultimo centesimo il vecchio debito capitale ed interessi procurandovi una quietanza in regola siete magistrato e per questo affare mi rimetto a voi pienamente vi conosco inoltre uomo leale e galantuomo e dalla vostra parola non esiterò ad affidarmi per traversare i pericoli dell'esistenza sotto legida del vostro nome ci useremo indulgenza reciproca giacché da un pezzo ci conosciamo e possiamo dirci quasi parenti non mi vorrete quindi rendere infelice il presidente le cadde ai piedi con un palpito di gioia e di angoscia sarò il vostro schiavo disse la quietanza e la riprese guardandolo freddamente la consegnerete a mio cugino grandè insieme con i titoli di credito e con questa lettera e al vostro ritorno manterrò la parola De Bonfant capì subito che solo il disinganno amoroso spingeva a lui la signorina grandè e fu sollecito ad occuparsi dell'incarico avuto per timore che i due amanti non finissero col mettersi d'accordo appena egli fu uscito Eugénie cadde sul seggiolone e scoppiò in lacrime tutto era consumato la sera dopo il presidente giungeva a Parigi e la mattina seguente radunava i creditori nello studio del notaio depositario dei titoli di credito non ne mancò uno all'appello in nome della signorina grandè pagò loro oltre il capitale anche gli interessi il che sorprese in modo straordinario il ceto commerciale parigino e compensò de Grassende l'opera sua con la somma di 50.000 franchi appena registrata la quietanza si diresse al palazzo d'Obrion dove trovò Charles triste ed affranto perché il suocero gli aveva dichiarato allora allora che non permetteva il matrimonio finché non si fossero estinti debiti di Guillaume Grandet la lettera di Eugénie diceva così cugino mio il signor presidente de Bonfons vi consegnerà la quietanza di tutte le somme dovute da mio zio e la mia dichiarazione di averle pagate col vostro denaro mi si parlò di fallimento e pensai allora che il figlio d'un fallito non avrebbe potuto aspirare alla mano della signorina d'Obrion si caro cugino è proprio esatto il vostro giudizio sul mio spirito e la mia educazione e certo non ho in me nulla che mi renda adatta al bel mondo non ne conosco gli usi nei calcoli freddi e sarei incapace di darvi godimenti che in esso cercate vi auguro di essere felice secondo le convenienze sociali a cui dite di sacrificare il vostro primo amore e per rendervi completa la felicità ho voluto offrirvi l'onore di vostro padre addio ritenete per sempre un'amica fedele la vostra cugina Eugénie alla vivace esclamazione che quell'ambizioso non seppe trattenere nel prendere la quietanza il presidente sorrise ed aggiunse ci scambieremo le partecipazioni di matrimonio ah sposate Eugénie voi benissimo ne son lieto perché è una brava figliuola ma dite un po' ella è ricca dunque quattro giorni fa riprese il presidente con sottile accento di beffa aveva quasi diciannove milioni ma oggi gliene rimangono diciassette il giovane lo fissò con aria stupita diciassette diciassette milioni sì signore fra tutti e due mettiamo insieme settecentocinquanta mila lire di rendita cugino disse Charles rifrancandosi potremo aiutarci a vicenda volentieri ecco anche una cassettina che ho l'incarico di consegnare proprio a voi e su un tavolinetto posò la famosa scatola in quel momento entrava la marchesa Dobrion senza badare a Cuchot non temete amico mio dissella e non badate affatto a ciò che vi dice quel povero signor Dobrion cui la duchessa di Chaglieu scalda la testa torno a ripetervi che il matrimonio si farà benissimo signora tanto più che ieri furono pagati quattro milioni dovuti da mio padre rispose Charles in denaro fino all'ultimo centesimo capitale ed interessi quindi posso far subito riabilitare la sua memoria che sciocchezza esclamò la futura suocera ed aggiunse all'orecchio del giovane vedendo Cuchot quel signore chi è? è il mio agente d'affari rispose Charles sottovoce la marchesa fece un saluto altezzoso al signor de Bonfond si vede che cominciamo ad aiutarci osservò il presidente congedandosi addio cugino mi sembra che si burli di me quel cacatoa di Saumur sarei quasi tentato di cacciargli in corpo sei pollici di lama De Bonfond se n'era andato tre giorni dopo egli sposava la signorina Grandet in capo a sei mesi aveva la nomina di consigliere alla real corte d'Angers e prima di lasciare Saumur Eugénie fece fondere l'oro dei gioielli già così preziosi al suo cuore convertendolo insieme con gli otto mila franchi del cugino in uno stentorio d'oro per la chiesa ovettanto aveva pregato per lui in seguito il marito che die prova di speciale devozione in alcune vicende politiche divenne presidente di sezione e dopo qualche anno primo presidente della corte aspettava con impazienza le elezioni generali per fare un posto alla camera era ansioso del grado di pari ed allora allora il re sarà addirittura suo cugino diceva Nanon la grossa Nanon madame Cornoyer borghese di Saumur di Saumur di Saumur di Saumur